Che cos'è la degenerazione maculare senile? Quali sono i pazienti più interessati? Quali sono le caratteristiche della sua insorgenza? Diciamo che è un tipo di patologia che interessa ovviamente, così come dice il termine, la popolazione anziana, intesa fondamentalmente come una popolazione con un'età superiore a 60-65 anni. È una patologia che caratterizza la parte centrale dell'occhio, in questo caso della retina, e infatti da qui anche il termine di maculopatia. In realtà ci sono varie forme di maculopatia, in questo caso si tratta appunto di una maculopatia senile perché si caratterizza da questa insorgenza, diciamo così, in un'età un po' più avanzata rispetto ad altre forme di maculopatia. I primi segni che sono tipici di questa patologia sono prevalentemente legati ad una alterazione a carico della vista che può essere appunto interessata per uno oppure entrambi gli occhi e con un abbassamento della vista associato per esempio ad una distorsione visiva per cui il paziente incomincia a notare che le linee non sono più rette o le sagome sono distorte e successivamente quando il quadro diventa più avanzato si ha la comparsa di macchie fisse al centro del campo visivo, prevalentemente al centro proprio della macula. Quali sono i trattamenti e le cure per questa patologia? Beh, diciamo che se il paziente ha la fortuna tra virgolette di accedere in maniera abbastanza tempestiva al trattamento tempestiva significa con un intervallo di tempo che non sia sicuramente superiore a 15-20 giorni dalla diagnosi della palatia stessa la terapia più efficace in questo senso per quanto riguarda la maculopatia senile prevede la somministrazione di farmaci specifici che hanno il compito di bloccare la perdita della vista questo è un concetto molto importante perché in realtà fino a qualche anno fa, parliamo di circa 10 anni fa questo tipo di possibilità per noi era quasi una chimera in quanto esistevano trattamenti che non consentivano di bloccare l'evoluzione della patologia ma soltanto di rallentarla nella maggior parte dei casi non era praticamente quasi possibile neanche fare questo. Con queste nuove appunto tipologie di trattamenti che consistono nel somministrare direttamente all'interno dell'occhio con delle iniezioni assolutamente in dolore e dei farmaci che ci danno la possibilità di stabilizzare la vista perché è il concetto di trattamento rapido perché fondamentalmente riuscire a stabilizzare una vista elevata è molto più soddisfacente per il paziente piuttosto che stabilizzare una vista quando ormai la situazione è abbastanza compromessa.